Oggi parliamo di imprese edile e leggo la domanda di Daniela, che è una domanda molto simile a quella che ho ricevuto due o tre giorni fa, che leggo Ciao Massimo, la mia domanda è questa. Come si può adottare una strategia di differenzazione nel settore edile? E poi, come posso utilizzare una lista clienti? Grazie mille. Allora, Daniela, questa è una domanda che colpisce tantissimi impresari edile, perché ne ho oltretutto tanti iscritti alla mia lista e effettivamente l'edilizia è un settore molto difficile. Primo punto, in questo tipo di settore, a mio avviso, le persone non hanno troppo bisogno di un vero elemento differenziante quanto riuscire a stabilire una connessione di fiducia, un rapporto di fiducia con la detail, con l'impresario o con chi per lui. Questo perché, essendo una tipologia di lavoro che, dal punto di vista dell'utente finale, effettivamente ne beneficia quanto? Due volte in una vita, tre volte in una vita, quattro volte in una vita, non di più. Quindi, oggettivamente, è un lavoro a cui la persona ci tiene particolarmente, vuole che sia fatto in maniera perfetta, praticamente. Perché, oggettivamente, è un lavoro molto costoso per l'utente finale e quindi vuole che tutto sia svolto a regola d'arte. E quindi, qual è l'elemento differenziante che puoi utilizzare? A mio avviso, non è nemmeno obbligatorio in questo caso. Quello che tu devi riuscire a fare è trasmettere fiducia della tua competenza al cliente finale. Tutto qui. Se tu riesci a trasmettere questa competenza, a fare in modo che la persona dica No, ok, io voglio lavorare con Daniele perché sono sicuro che lui mi farà un lavoro fatto bene, fatto come si deve, non farà errori, non cercherà di fregarmi, non cercherà di fare chissà cosa. Voglio stare sicuro, voglio lavorare con lui, anche se costa un po' più degli altri. E, oltretutto, è esattamente quello che è successo a me. Io ho un caro amico che ha un'impresa edile, nonostante il suo preventivo fosse più alto rispetto a quelli che ho ricevuto, Alla fine mi sono rifornito da lui perché non volevo avere brutte sorprese. Semplicemente. Quindi, la domanda che ti potresti porre è proprio questa. Come puoi fare per riuscire a creare questa relazione con il cliente e fargli trasmettere la tua competenza? Quindi, questa persona deve pensare esattamente come è successo a me. Quindi, quello su cui dovresti concentrarti è proprio questo. Chiediti come posso fare per riuscire a far pensare al mio cliente finale che noi siamo dei professionisti del settore, siamo bravi nel nostro lavoro, sappiamo quello che facciamo, non nascondiamo colpi bassi, non facciamo scherzi, insomma, non lavoriamo male e che questa persona voglia lavorare esclusivamente con te. Non è facile, però, questo grazie al marketing oggettivamente è fattibile. Io mi concentrerei principalmente sulla creazione di materiale cartaceo da consegnare fisicamente al cliente in modo che la persona inizia a leggere tutto quello che voi fate, ad esempio l'analisi, come lavorate in un certo modo, come gestite, non so, l'organizzazione dei collaboratori esterni. Magari avete l'idraulico esterno, avete quello che vi fa le ringhiere esterno, il falegname esterno e così via. Quindi, questo potrebbe essere un elemento. Potete, ad esempio, descrivere come gestite la costruzione del grezzo, indicando, ad esempio, gli errori che vengono comunemente commessi. Questo è un ottimo modo, quello di spiegare gli errori che vengono commessi in quel campo e praticamente mettere in mostra, dimostrare che noi abbiamo una soluzione, che lavoriamo in maniera diversa. Questo è un modo per davvero trasmettere competenza. Nel momento che la persona inizia a leggere questo materiale di marketing e dice «Caspita, sai che questi però effettivamente sono bravi, quasi quasi chiedo il preventivo anche a loro». Questo è il primo step. Quando poi gli arriveranno i preventivi, perché comunque non riceverà solo il vostro, comunque ne riceverà diversi, a questo punto è molto probabile che la scelta del cliente vorrebbe ricadere sul vostro anche se non è il preventivo più basso. Magari cosa fa? Vi fa una controproposta, vi chiede «Guarda, la ditta A ha chiesto 100.000, la ditta B 105, voi 130, riesci a farmi un po' meno perché avrei veramente piacere di lavorare con voi, perché sono sicuro e credo che riuscireste a lavorare bene e mi fate sentire tranquillo». Però il prezzo è un po' eccessivo. A quel punto poi i contratti gli puoi andare un po' incontro, cerchi di trovare una soluzione, oppure cerchi di giustificare a maggior ragione perché il tuo prezzo è più alto, quindi martelli ancora di più sul fatto che tu lavori in un certo modo, non fai errori, non sbagli e così via. Dopo questa è una scelta, una strategia di business che potete fare come volete. Questo è il primo punto. Il secondo punto si collega poi esattamente a questo, la seconda domanda che mi hai fatto, ovvero come sfruttare la lista clienti. Nel momento che hai finito il lavoro con questa persona, e io do per scontato, perché deve essere così se vuoi sfruttare la lista clienti, che il cliente sarà al settimo cielo, sarà veramente disposto a parlare di te, a consigliarti agli amici, anche così, tra virgolette gratis, senza motivo. Una persona gli dice «Guarda, devo ristrutturare casa, non saprei a chi rivolgermi» e la persona gli dice «Guarda, fermo lì, ho io la ditta che fa per te perché sono veramente bravi». Quindi diciamo che questo dovrebbe già succedere in automatico. Per stimolare questa cosa dovresti riempire, tra virgolette, il cliente finale, la persona che ha lavorato con te, con il materiale di marketing che gli hai lasciato, che è stato utilizzato per farti scegliere. Questo perché nel momento che un amico dirà che deve ristrutturare casa, o che deve fare determinati lavori, o che ha bisogno comunque di un'impresa come la tua, lui avrà già del materiale da consegnarli pronto a fare il suo lavoro. Quindi ti fa risparmiare quel passaggio di ricerca un cliente, spediscigli il materiale e lo fa direttamente il tuo amico. In più, gli lascia la sua testimonianza che si è trovato a lavorare bene con te e il gioco praticamente è già fatto. Inoltre, se tu ci pensi un attimo è praticamente quello che già succede. Per questo tipo di lavori funziona molto al passaparola. Ci si confronta con persone che hanno già ristrutturato casa o fatto un lavoro simile a quello che andrà a fare l'amico e gli chiede come si è trovato con questa impresa edile e se effettivamente gliela consigliano. Proprio perché, come dicevo all'inizio, è una cosa talmente delicata che le persone non vogliono sbagliare, quindi scelgono molto attentamente. E il prezzo non è mai l'ultimo motivo di scelta. Per cui io mi muoverei così. Spero di averti dato qualche dritta. Se hai bisogno di farmi altre domande, fammele pure. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo alla prossima risposta. Ciao!